Buongiorno, mi chiamo Nicola Ghidini, sono di Modena e faccio parte del Centro Orologico Europeo. Ho voluto fortemente visitare uno dei centri in cui opera l'amico Gabriele perché volevo vedere dal vivo la fattibilità, la semplicità e soprattutto constatare la riproducibilità della tecnica di impianto protesico idraulico per via infrapubblica. Il risultato finale di tutti gli interventi eseguiti è stato assolutamente eccellente e quindi vado a caso soddisfatto con un ottimo bagaglio di informazioni nuove acquisite e soprattutto vedrò l'impianto della protesi dalla parte opposta e mi sembra sicuramente migliore.